Le scienze naturali si raccontano a Palazzo Lascaris con il progetto di collaborazione fra il Museo Regionale di Scienze Naturali e il Consiglio Regionale del Piemonte con lezioni minime a Palazzo Lascaris. Primo appuntamento fino al 22 settembre con la felce lunaria, pianta diffusa soprattutto nell'emisfero settentrionale, comune sulle Alpi e sugli Appennini, dai 300 ai 3.000 metri di quota, alla quale nel passato vennero attribuiti magici poteri. Prossimo appuntamento a fine settembre con i minerali, in concomitanza con il Minerale Expo 2013.